Ciao a tutti e benvenuti in questo canale. Io mi presento, sono Cinzia e ho la Ropecia Universale. In questo canale troverete un sacco di notizie e informazioni per quanto riguarda parrucche, per quanto riguarda tutte quelle cose che si possono fare per camuffare la propria condizione. Per esempio parleremo di sopracciglia, parleremo di ciglia. Dall'altro lato parleremo anche di tematiche un po' più profonde come la diversità, come l'amore, quindi cercheremo di spaziare al massimo fra gli argomenti. Se state guardando questo video dal computer, qua sopra troverete una lente, potete cliccare e cercare l'argomento che più vi interessa e vedere magari siete fortunati e l'ho trattato già. In alternativa ho fatto un po' di playlist che potete cliccare e potete guardare tranquillamente su vari argomenti che possono essere di vostro interesse. Se invece non avete trovato fra i vari video qualcosa che vorreste vedere, scrivetemelo fra i commenti e io li prenderò in considerazione e cercherò di fare quello che posso per accontentarvi e darvi una mano. Io vi ringrazio già, iscrivetevi così mi date una mano a far crescere il canale e allo stesso tempo se cliccate la campanellina riceverete sempre le notifiche quando pubblicherò un nuovo video. Vi ringrazio ancora e buona visione!